Conferiamo a un certo donatore la laurea magistrale onore scausa in televisione, cinema e new media. Io sono veramente molto commosso e onorato di ricevere questo riconoscimento così importante. 20 anni fa, quando sono stato a Hollywood per la serata degli Oscar, quel giorno ho avuto il privilegio di conoscere molti registi, molta gente del cinema, ma uno in particolare mi colpì moltissimo. Si tratta di Akira Kurosawa, che quell'anno riceveva l'Oscar alla carriera, compiva 80 anni. Quando Kurosawa fu chiamato sul palco per ricevere l'Oscar, disse una frase che non ho mai dimenticato, che ho sempre portato con me. Disse, mi chiamo Akira Kurosawa, ho 80 anni, ho fatto più di 20 film, ma non ho ancora capito l'essenza del cinema. Mi fulminò questa sua, la forza della sua semplicità. Pasolini si chiedeva sconsolato, perché realizzare un film quando è così bello solo pensarlo? Ma in tutta questa babbele di adulterazioni e di imposture interpretative che il mondo impone, sempre di più imporrà al film, resta fortunatamente nascosta. Magari frantumata nelle mille tessere di un mosaico che nessuno vorrà mai comporre, il sentimento dell'antica idea che aveva innescato in origine la genesi del film. Grazie.